Ciao a tutti, sono Marta Suvi e benvenuti su Pixcova, nel canale youtube interamente dedicato al true crime l'originale di più delle imitazioni che girano in giro oggi ho un video un po' particolare, quindi voglio un po' parlare con voi di due cose che diciamo mi stanno molto a cuore quindi è un video un po' chiacchiericcio che parliamo sempre per quanto riguarda il tema true crime però è un po' una cosa così insomma scusate non trovo tanto bene le parole volevo parlarvi di argomenti che mi sono molto a cuore perché insomma mi sono arrivate delle pitiche diciamo pure slash un po' insultini però secondo me sono spunto per delle riflessioni e per mandare dei messaggi e delle riflessioni che secondo me sono importanti e mi sono sempre state molto molto a cuore quindi ne volevo parlare con voi so che questo è un video diverso dal solito non è un caso quindi nel caso vi andasse di supportare il mio lavoro il mio canale che è proprio l'argomento di questo video quindi non lo so se vi va di dimostrarmi un po' da fatto questo video è un bisogno quindi grazie mille potete farlo supportandomi con un like, un commento, salutando Al, il nostro amico Igoritmo e come al solito insomma qui sotto sono tutti i miei canali youtube, instagram, il codice di pampering, il codice schiccio quindi non lo so, iniziamo super, è un po' complicato questo video e mi metto un sacco di tristezza vi dico la verità però secondo me è importante non tanto concentrarsi su questo quindi che fosse diretto a me però è importante secondo me riflessare su determinate cose soprattutto legate a questa community non la nostra perché la nostra insomma siamo super persone tranquille con un sacco di empatia è sempre molta sensibilità anche quando parlo dei casi più sensibili io non ho nessun problema con i commenti a doverli moderare perché non ho mai trovato commenti fuori posto nemmeno nei confronti delle persone peggiori ecco ci sono ogni tanto commenti però non sono mai per quanto riguarda gli utenti che effettivamente seguono me e il mio canale e questo per me è veramente una questione di grandissimo orgoglio non è facile avere una community che alla fine ha un buon numero di iscritti così selezionata con persone che hanno un certo tipo di sensibilità hanno anche riflessioni molto interessanti per quanto riguarda i casi e questo io sono molto orgogliosa perché sono sempre dell'idea che la community rappresenta lo youtuber, il creator, il suo lavoro e tutto e quindi mi prendo dei piccoli meriti voglio credere che insomma anche io ho qualche merito in tutta questa situazione sono sempre molto molto orgogliosa per quanto riguarda voi e anche sono molto orgogliosa di come abbiamo da sempre iniziato a parlare di questi casi perché questo scherzando o meno il primo canale di fidate alle immigrazioni vuol dire anche impostare un tipo di discorso in merito a questo argomento quando nessuno lo trattava e quindi non si aveva un'idea su cosa funzionava cosa non funzionava, cosa veniva preso male, cosa non veniva preso male o bene insomma un tipo di taglio da dare a questi casi che era la mia persona, la mia personalità cosa che io, i miei valori ritenevo giusti o sbagliati e non lo so, io credo che sia un modo giusto altrimenti sotto i miei video ci sarebbero, non lo so, delisioni alle vittime o cose del genere non c'è mai nulla di tutto ciò non c'è nemmeno, che ne so, insulti magari a persone che hanno fatto così ma c'è sempre una riflessione c'è sempre, ci sono un sacco di professionisti in vari settori che a volte lasciano un commento per ampliare il discorso che sia, non lo so, non per forza legati magari al settore delle indagini e cose così ma molto spesso legati anche ad altri settori dove io non ne so nulla perché io mi occupo di cinema quindi sono una storyteller una persona che racconta qualcosa però non un'investigatrice ecco, quindi ci possono stare tante situazioni che io posso non conoscere a pieno, tanti argomenti e cose così sono davvero molto orgogliosa anche che ci siano tante persone anche disponibili a scrivere magari commenti di approfondimento è sempre un arricchimento sia per me sia per le persone che stanno guardando in quel momento quel video che si trovano un approfondimento così da parte di un professionista per creare insieme un prodotto che non è semplicemente il mio video ma è un prodotto collettivo scusa, sono un po' citata l'altro giorno ho visto una cosa e sinceramente ci sono rimasta un po' male parlavano di me di questo canale della mia community di voi quindi una delle cose che è stata criticata a me è stata il mio aspetto io come sapete ho parlato diverse volte di come non mi sento molto a mio agio che il mio aspetto sia una cosa da criticare da mettere lì ci sta a dire non mi piacciono quei capelli e roba così ho anche gli occhi e so che ho i capelli bruciati però per me l'aspetto è sempre qualcosa dove ti deve rendere felice deve essere qualcosa per come si dice per esprimerti uno strumento per esprimere e utilizzare tutto per renderti felice quando inizia una nuova giornata che sia magari un nuovo vestito dei capelli un nuovo fermaglio la coda un rossetto possono essere mille cose sono stata definita un clown per come mi concio io onestamente non credo di meritarmelo non credo nemmeno di conciarmi in maniera troppo particolare ci sta non si può piacere a tutti e ci sta e io non sono una truccatrice quindi ci può stare che magari alcuni look riescono alcuni look non riescono e non c'è niente di male perché io non mi spaccio per qualcosa che non sono però a volte non lo so certe volte c'ho voglia di un rossetto colorato certe volte c'ho voglia di non lo so un ombretto colorato e sono tutte cose che non lo so sono quelle piccole cose che a volte ti possono svoltare una giornata e magari sei un po' triste quel giorno e queste piccole cose ti fanno sentire bella magari ti stanno anche male però non lo so ti senti bella oppure ancora che ti possono per sentire bene io non lo so c'ho tante cose che per quanto riguarda i colori che magari certe volte c'ho voglia proprio non lo so di mettere un ombretto di un colore perché mette di buon umore certe volte ha voglia non lo so mi piacciono un sacco con questi capelli che capisco magari che per qualcuno i capelli colorati sono anche simbolo dell'assero infantile o sono ridicoli però a me non lo so danno vibes positive mettono di buon umore mi piace un sacco questo colore c'ho un sacco di cose con dettagli del colore verde acqua semplicemente perché mi mette allegria e non trovo giusto onestamente che tutto il mio lavoro e anche quanto quanto cura metto nel tentare di parlare di tante cose complicate nella maniera che io ritengo più giusta possibile sia tutto buttato nel cesso semplicemente perché secondo alcuni mi concio da clown e non credo che un rossetto sia una mancanza di rispetto un po' come il discorso per quanto riguarda andare a scuola con un certo look cose del genere e anche a scuola non avevo questa idea credo che il rispetto verso le cose le persone sia su come ne parli quanto ti metti nei panni dell'altra persona quanto la consideri un essere umano tanto quanto te o tanto quanto consideri un essere umano una persona che è cuore e non credo che il colore dell'ombretto voglia dire un senso di rispetto o una maglietta posso capire non lo so che magari l'essere svestiti possa risultare strano ma io non mi presento così su youtube e non ho nulla di tutto questo nei miei video ho sempre non lo so preso in giro i cattivi diciamo così perché credo che ridicolizzarli senza de-responsabilizzarli sia un modo per renderli meno affascinanti perché molto spesso quando ci sono personaggi negativi noi abbiamo una sorta di fascinazione pensate a personaggi negativi tipo non lo so il Joker Patrick Bateman che adesso di American Psycho che adesso sta avendo tanto successo il cattivo di Seven tutte queste cose molto spesso quindi personaggi negativi suscitano molto fascino e un conto se stiamo parlando di Joker Freddy Krueger cose del genere tutto un altro conto invece ovviamente quando parliamo di persone reali che hanno fatto qualcosa che è innominabile togliere la vita a qualcuno o rovinarla in maniera molto molto pesante insomma se hanno fatto violenze e cose così perché ovviamente viviamo in una società dove sembra quasi che ci sia la famacrazia diciamo così dove il tuo potere e la tua opinione sembra valere diversamente in base a quanto viene ritenuto famoso rilevante nell'assetto e quindi popolare come se fosse un telefilm delle serie tv sulle scuole statunitense con la cheerleader e tutto e io non credo che un look che non ha nessun intanto di delidere una vittima una storia che non ha l'obiettivo sono ridicola faccio ridere sia una cosa non lo so che toglie peso le mie parole o mi scredita non credo che non lo so gli eventi particolari siano una mancanza di rispetto non credo che il trucco sia una mancanza di rispetto io non avessi l'intanto di risultare ridicola ma io non credo che la gente debba sentirsi anche questo peso che non so quante volte avete sentito le persone vorrei farmi questo colore di capelli vorrei vestirmi così però ho paura di risultare ridicola ci sono un sacco di problemi nella nostra società e ci sono tante cose che purtroppo desideriamo fare ma non possiamo fare perché magari non abbiamo il tempo non abbiamo i soldi non abbiamo le possibilità se ci sono delle cose che possiamo fare che ci fanno sentire bene perché privarcene se sono così sciocchine una maglietta un taglio di capelli un trucco un rossetto che male c'è questa cosa onestamente mi fa male semplicemente perché tutta la mia adolescenza è stata così con i professori che mi screditavano si andavo bene a scuola ma era sempre un problema per come mi vestivo sì ok vai bene studiato però ti vesti così ma gli stessi sono solamente vestiti cioè ok che in alcune situazioni purtroppo o per fortuna ci sono situazioni in cui dobbiamo dare soprattutto a livello lavorativo una certa immagine soprattutto quando non lo so fai il commesso così quindi sei un responsabile di una società purtroppo lì non hai la possibilità di essere te stesso perché vieni privato della tua persona e molto spesso soprattutto se sei la persona che ha a che fare con il pubblico la gente ti tratta malissimo perché non ti vede come una persona ma ti vede quasi come un robot che parla a favore dell'azienda X o della società X e capisco per cui il motivo per cui le aziende richiedono questo ma allo stesso tempo è un peccato secondo me perché e se ho la possibilità di esprimere me stessa senza problemi facendo questo lavoro sono estremamente fortunata che male c'è è arrivata un'altra critica che io riterengo disumana uno dei motivi per cui mi è stato detto di dover cambiare lavoro è il fatto che a volte io mi ho sorto di trigger warning prima dei miei video vi avviso se il materiale è un po' così senza senza fare patetismi e cose del genere non so qui a far finta oh mio dio di fare scenate però rivendico una cosa che secondo me è importante rivendico la sensibilità e la sensibilità non vuol dire essere stupidi non vuol dire essere deboli se una storia effettivamente vi sciocca secondo me è una cosa giusta soprattutto se le persone che consumano molto true crime o che sono molto vicine a questi argomenti queste persone devono mantenere uno stato di sensibilità verso le vittime verso le situazioni devono essere in contatto con tutta una parte umana che non deve essere persa non mi si può dire che se questa cosa mi ha veramente toccata la risposta è allora cambia lavoro non devi parlare di questi argomenti no cioè non dovrei parlare di questi argomenti se li strumentalizzassi se iniziassi qui a non lo so fare la finta faccia contrita per un sentimento che in realtà non ho ma se una cosa mi fa dispiacere per quella persona perché penso non lo so a un bambino abbiamo raccontato un sacco di volte alcune storie in cui magari erano storie terribili di bambini che e non è semplicemente perché sono i bambini è logico che non possiamo avere lo stesso trasporto verso estranei rispetto a quello che avremo verso parenti persone che conosciamo e gli vogliamo bene ma è ovvio ma secondo me è giusto mantenere un certo tipo di sensibilità di empatia che per carità è minima rispetto a quella che avremo verso persone nostre affetti però un pizzico è giusto rimanere un minimo toccati da queste cose come dicevo ci sono delle storie io mi ricordo una stiamo parlando di bambini dove erano vittime magari della violenza dei genitori e per tutta la loro vita l'unica cosa che hanno conosciuto è stata violenza non affetto e roba così e come puoi rimanere totalmente non toccato impassibile da una storia che magari non lo so pensi pensi magari che tu hai avuto degli alti dei bassi cose in cui sei stato fortunato meno fortunato e poi magari pensi poteva capitare a me la sfortuna di nascere magari genitori che ti tolgono la vita che ti trattano come un animale per tutta la tua vita e non hai mai avuto l'opportunità di crearti una tua vita allontana da quelle persone avere degli esperienze non so andare a scuola diventare grande quelle piccole cose che effettivamente diventano grandi passi all'interno della vita delle persone e come vi dico a me non piace quando c'è la finta commozione per quanto riguarda queste storie e non piace la finta essere contrita il patetismo sono cose che odio perché mi sembrano una mancanza di rispetto allo stesso tempo credo sia giusto in parte ogni tanto avvertire che la storia che si va a trattare è molto pesante perché è giusto ed è normale è normale che le persone rimangano colpite da storie tragiche è normale che si venga toccati da storie estremamente violente la anormalità è rimanere totalmente impassibili e se consumate tante di queste storie e non vi tocca più nulla il problema non è le storie non è che ne avete viste tante il problema siete voi e come vi approcciate alle cose al mondo perché consumare questo tipo di video true crime è semplicemente una piccola parte del mondo intero se non avete nessun tipo di empatia siete chiusi verso il mondo e quindi non lo so se camminate per strada vedete qualcuno che ha bisogno di una mano che succederà verrete toccati vi dispiacerà lo aiuterete oppure farete finta di niente è questa la cosa ed è giusto secondo me che le persone non si forzino a guardare dei video io molto spesso quando ci sono delle storie così avverto perché magari le persone vogliono supportarmi vogliono vedere tutto il mio video si sentono in colpa a chiuderlo ma la sensibilità è una cosa che in certo senso è sacra va rispettata io metto sempre le persone quando dicono addirittura si scusano scusami non sono riuscita a continuare ad andare avanti col video è giustissimo non ti devi scusare è giusto così nessuno si deve forzare per sentire delle storie a meno che non siano proprio delle storie a livello di impatto nazionale tipo non sapere cosa è successo ad Aldo Moro non sapere di Matteotti o il Cisceo magari non tutti i dettagli non tutti i dettagli sono necessari però almeno cosa è successo devi saperlo poi i dettagli non sono necessari come vi dicevo e ci sono tanti video o tanti tipi di narrazioni anche nei giornali dove si sottolineano molto questi dettagli i dettagli della storia per me quanto riguarda il colpo lì in questa maniera fatto questo questo e quest'altro è necessario fino a un certo punto è necessario per far capire un'idea e la gravità della situazione ma cadere nel morboso per me è ok in un film non nella realtà perché indugiare troppo nei dettagli morbosi secondo me umanizza molto la vittima e come vi dicevo se noi non siamo stati in guerra non abbiamo vissuto in prima persona queste cose e ovviamente non è che vediamo corpi dal vivo ad essere a manca saremo portati a pensare che questa cosa è finta quei dettagli a un certo punto a un certo limite fatichiamo a digerirle come reali e quindi il nostro cervello quasi le metabolizza come se fosse se si sta ascoltando un libro di Stephen King un video un film horror cose così per me non sempre queste cose sono così tanto fondamentali e anche queste cose possono essere raccontate in una maniera rispetto a una esattamente come privilegiamo determinati programmi di cronaca e non ci piacciono altri io non credo che dovrei cambiare il mio argomento semplicemente perché ho a cuore un certo tipo di pubblico che ha una sensibilità e capire anche che avvertirlo certo non si possono fare mille trigger warning su tutti gli argomenti perché è infinito le persone potrebbero rimanere anche estremamente toccate da non lo so delle cose che non sono estreme ma magari hanno a che fare con qualcosa di traumatico che hanno vissuto sono rimasta estremamente ferita da questa cosa che mi hanno rivolto e credo che sia sbagliata e quindi se era semplicemente un insulto me lo becchiavo insomma e ne discutevo privatamente e cose così però ho pensato che questi argomenti tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso erano degli argomenti che mi stanno a cuore come per esempio l'aspetto l'espressione del proprio look che sono cose a cui la gente dà un valore negativo eccessivo quando in realtà sono semplicemente cose che sì ok ti possono piacere o meno però se non ci sono proprio degli estremi chi se ne frega anche la sensibilità cioè non credo che io non voglio perdere questo tipo di sensibilità anche quando guardo un film sì certo sono più portata per l'analizzarlo però voglio che determinate scene mi facciano impressione determinate scene e siano tragiche mi commuovano perché è importante come si può dire navigare in quelle sensazioni in un contesto sicuro dove noi non stiamo vivendo quelle cose dove magari è un film ed è importante poterle navigare così certo poi magari c'è qualcuno che purtroppo certe cose le ha vissute che magari è desensibilizzato fatica proprio a venire in contatto con parte della sua interiorità perché non lo so si è chiuso per mille motivazioni traumi non lo so poi magari per carità ci sono tutte persone che magari sono insensibili esistono anche quelle di persone che vedono gli altri come content a questo punto cioè se queste storie non ti toccano minimamente allora come le vedi in base a quanti like vuoi prendere come vanno guardate queste storie come leggi non lo so della notizia trash non lo so del papa che cade boh scusate non le ritengo una tragedia al papa che cade a meno che non ci rimane ecco ho pensato che questi questi due messaggi fossero qualcosa di importante per quanto riguarda un po' in generale non solo la community true crime non solo le persone che fanno un video non solo il pubblico è giusto mantenere una certa sensibilità è giusto non forzarsi è giusto non distaccarsi non diventare degli involucri così come è giusto non fare patetismo non essere morbosi ma è giusto anche che vi sentite liberi di essere chi siete cioè non è niente di che perché se una persona si deve sentire a disagio non lo so per un rossetto ma allora che messaggio stiamo mandando allora una persona non lo so che capisce che ha disforia e vuole tentare di mettersi degli abiti del genere di destinazione allora quella persona va derisa persone che semplicemente non vedono perché un vestito deve essere per forza solamente per donne gli piace se lo mettono allora quelle persone pure sono fuori luogo no credo sia fondamentale che se qualcosa non fa male a nessuno e ti renda felice che problema c'è e ci mancherebbe non lo so che ti devi privare di mettere un rossetto un vestito semplicemente perché oh mio dio altrimenti non puoi parlare di true crime io non credo che sia così credo che conti sempre l'interiorità e le azioni non la maschera e a prescindere da come sono i miei capelli come il mio rossetto io sono sempre cioè quello che faccio è la stessa cosa non credo che alla fine dei miei video quello che rimane sia che rossetto avevo che ombretto magari può interessarvi magari dite è brutto oppure magari vi piace oppure magari vi mette allegria magari dite forse non mi piace come sto forse nemmeno vi vi dissuoto da un acquisto magari perché dite è brutto forse evito di comprarlo non lo so però credo che alla fine di ogni mio video su questi temi rimanga altro o almeno lo spero e quindi non lo so questo era tutto scusate questo video è diverso dal solito se non vi interessava scusatemi però credo fossero dei messaggi hobby però ho capito che non erano così hobby e se dopo tutti questi anni ancora feriscono me magari potrebbero ferire altre persone magari più giovani e credo che sia anche una mia responsabilità prendere questo spazio per mandare dei messaggi che io ritengo che siano giusti quindi questo era tutto ditemi voi cosa ne pensate tanto mi fido siete sempre super gentili quando vi esprimete e avete sempre delle riflessioni che a volte sono cose a cui io non avevo pensato e mi fanno riflettere quindi grazie mille grazie mille anche perché in tanti di questi anni mi avete sempre accettato così come sono con i capelli bruciati e roba così e sorrare le cose così e non mi avete mai fatto sentire fuori luogo o sbagliata semplicemente per un rossetto un trucco o come mi vesto o perché magari certe cose mi colpiscono o mi interessano quindi grazie davvero siete preziosi e questa volta io vi lascio un cuoricino a voi con tipo le emoji fate conto così grazie ancora ciao